radio tassello è un'iniziativa nata dall'associazione il tassello per dare la possibilità a tutte quelle persone che abbiano voglia di esprimere la propria creatività di poterla realizzare proprio qui da noi perché nella nostra radio si ha la possibilità appunto di rendere vere delle idee un esempio sono tutti i nostri programmi il radio tassello show questo è il programma sicuramente più vecchio il primo nato e parla dell'attualità all'interno dello spazio anteprima e del nostro circondario abbiamo un altro programma che si chiama interferenze dedicato alle interviste di tutti i gruppi musicali che girano all'interno dello spazio anteprima abbiamo sogni e sondesto voi vi chiederete ma che titolo è ed esattamente questo il punto perché sogni e sondesto parla del sogno lucido volete sapere che cos'è andatelo a scoprire abbiamo poi nero di china ecco nero di china è un nome già particolare di che cosa parla nero di china voi vi ricordate i vecchi audio romanzi bene è la stessa identica cosa solo in chiave fantasy studio 54 beh poteva forse una radio non avere un programma dance studio 54 rispecchia proprio queste qualità abbiamo hard rock tassello beh per tutti gli amanti del rock c'è da dire altro forse abbiamo bar sport provate a immaginare il calcio parlato all'interno dei bar non il consueto calcio che puoi ascoltare in qualsiasi radio ma all'interno dei bar quello l'abbiamo preso l'abbiamo portato in radio ascoltatelo ne vale la pena abbiamo un programma anche un po' irriverente a dire il vero infatti non so se sponsorizzarlo o no loro sono gina in tonic il loro programma è il de zama show battute che non fanno ridere o li odiate o li amate di solo innumerevoli collaborazioni che stiamo attivando in questo periodo ne è nata una particolare quella con l'unicef da lì un programma interessantissimo dal nome lifestyle seguitelo abbiamo anche un programma che serve fondamentalmente a far conoscere gli artisti che bazzicano nella nostra zona singer zone un programma in collaborazione con l'atelier del canto che dà la possibilità a tutti gli artisti appunto di questa fantastica scuola di potersi mostrare e far vedere le loro capacità canore e interpretative nella nostra splendida radio e questi sono solo alcuni altri sono pronti per essere realizzati ma non vi voglio dire altro passiamo ad un altro argomento che sicuramente vi interesserà qui di fianco a me c'è la mia vice direttrice joe ora vi farò parlare con lei che vi dedicherà del tempo spiegandovi alcune cose interessantissime ciao a tutti sono la joe e oltre che ad essere la vice direttrice sono anche una speaker di radio tassello l'esperienza è stata molto forte molto particolare perché mi è stato proposto per caso e ho accettato la sfida è bello lavorare qui tutti insieme perché la creatività è al massimo e ci si diverte tantissimo perché giustamente poi le cafonate sono tantissime gli sbagli sono tantissimi però si impara e l'esperienza è molto bella e molto importante come trovare radio tassello radio tassello ha un profilo facebook trovando radio tassello con la j oppure su www.spraaker.com cercando come utente radio tassello lì ci sono tutti i nostri programmi ricordiamo che le iniziative a cura di radio tassello sono ancora tantissime tant'è vero che a breve probabilmente uscirà anche un sito ma non vi voglio dire altro inoltre giorgia vogliamo dire radio tassello come si muove sul territorio esattamente radio tassello si muove sul territorio facendo degli eventi chiamati radio tassello on tour noi ci spostiamo per vari locali per presentare la nostra radio e offrendo tanta buona musica grazie mille jo di nulla grazie a tutti seguite radio tassello e in particolare il mio programma che è nero di china ciao un'altra parte fondamentale della nostra radio è la parte tecnica cioè dove fisicamente vengono realizzate le puntate e quindi e ci sono vari aspetti tra cui il nostro regista è fondamentale lui è dario ed è il nostro capotecnico ciao dario ciao ciao a tutti allora dario spiega ai nostri amici ascoltatori come viene realizzata fisicamente una puntata di radio tassello allora principalmente noi siamo dotati di un computer della macintosh e una scheda audio in sostanza noi tramite la scheda audio attacchiamo i microfoni e tutto entra nel nel computer una volta che si sviluppano le varie fasi di registrazione al fine io parlando con gli speaker trovo le scelte più giuste per montare la radio in sostanza un po come far musica si registrano delle stringhe dove poi verranno tagliate e montate con i vari spezzoni musicali con i vari sketch con i vari suoni e via discorrendo sicuramente un lavoro molto impegnativo perché stare dietro alle esigenze degli speaker deve essere molto faticoso o no ma guarda alcuni sono un po più esigenti di altri però devo dire che tutto sommato con la collaborazione che poi c'è qui a radio tassello si sistema sempre tutto è comunque una cosa che mi piace fare dai via benissimo ragazzi questa è la realtà di radio tassello se volete venirci a trovare lasciateci un messaggio sulla nostra pagina facebook di radio tassello potete venire quando volete ed assistere alle registrazioni quindi sperando di avervi fatto un'ottima compagnia vi ricordo che radio tassello appende la noia al muro grazie grazie grazie